Siamo qui in questo meraviglioso luogo, il centro storico di Roma con Antonio. Abbiamo appena parlato con Marcia Sedoc che organizza sempre questi eventi così incantevoli grazie all'associazione Facialopi e oggi ecco nuovamente incontriamo te. E siamo ancora insieme, sono contento, ciao a tutti, a tutto il vostro pubblico e ai vostri ascoltatori. Abbiamo raggiunto quasi 2 milioni di ascoltatori in questo periodo mettendo insieme tante belle realtà come anche la vostra, tanti artisti, tante situazioni. Io vi faccio complimenti perché avete realizzato degli eventi incantevoli. Sì, guarda è stata un'estate veramente molto molto interessante, dal festival di tutte le arti al volto per fotomodella insomma è stata una bella occasione di portare la cultura, la bellezza e soprattutto anche di ritrovarsi tra amici quindi che è anche la cosa forse ancora più importante. Infatti stasera siamo felicissimi di averti qui, di ritrovarti. Anch'io, anch'io, perché comunque sono questi eventi molto belli ma proprio è la scusa per stare insieme perché una città come Roma che è enorme e ci si perde tantissimo perché andare da una parte all'altra è come dover andare in un'altra città, no? Quindi purtroppo ci sono amicizie che però non riesci a mai trovare l'occasione giusta e Marcia invece riesce sempre a concentrare nei suoi eventi anche l'amicizia, è la cosa più bella e più emozionante, no? È vero, è vero. D'ora in avanti ci saranno due eventi al mese, sempre per la moda, per l'arte, che porterà avanti Marcia Sedoc. Che ci dici di questa realtà? Sì, guarda, io ho saputo oggi e insomma sarò presente anch'io e condurrò insieme a Marcia questi eventi, queste preselezioni per un volto per fotomodella per la regione Lazio. Sono molto contento di essere entrato all'interno di questo staff molto importante e quindi insomma non vediamo l'ora di cominciare, saremo a Piazza di Spagna, quindi una location in pieno centro, molto importante e per un evento insomma altrettanto importante. Bene, in bocca al lupo allora, noi ci saremo quando magari avremo diciamo la possibilità di portare tutta la truppa televisiva e quindi ci divertiremo insieme. Noi a voi dovete esserci sempre, quindi organizzatevi, lo sapete da oggi, organizzatevi e insomma portiamo avanti questo percorso insieme, che mi fa molto piacere. Bene, sono contenta, allora tra bellezza, arte e antichità romane saremo con voi. Grazie, grazie mille, buona serata, ciao.